Sindaco, questa sera si inaugurano gli archi d'estate, ma anche sapere di pane, sapore di olio, destagionalizzazione degli archi di pane. È un progetto molto complesso e molto ambizioso. Sì, infatti, questa è la prima edizione per San Piaggio Platani e per gli archi d'estate, ma contemporaneamente abbiamo pure, grazie alla misura 16.4 in collaborazione con il Galle, abbiamo pure tre ditte che sono messe assieme, quindi è una formata in ATS e oggi faremo la degustazione dei prodotti del territorio. Voi portate avanti un progetto che comunque promuove il vostro territorio. San Piaggio Platani ha prodotti d'eccellenza e ha turismo anche da vendere? Certo, a voglia. Noi partiamo sempre con gli archi di Pasqua. Non sono archi di pane, scusa la correggo, ma sono archi di Pasqua. L'archi di pane lo dicono perché giustamente c'è molto pane che rappresenta come prodotto gli archi di Pasqua e quindi da lì noi partiamo con il turismo. Quest'anno, infatti, noi abbiamo avuto quasi 60.000-70.000 presenze, quindi nel mese dove abbiamo avuto gli archi di Pasqua. E quindi puntiamo anche quest'estate, grazie a questa installazione che abbiamo fatto, grazie al PNRR, perché sono dei fondi PNRR. Forse siamo il primo paese nell'Agrigentino che sta utilizzando i fondi PNRR e quindi per questo siamo orgogliosi di essere il primo paese che li sta utilizzando. Questa sera grani antichi e cos'altro? Sì, questa sera noi avremo delle eccellenze, delle eccellenze zampiagesi, tra cui abbiamo i grani antichi che c'è una bella riscoperta, quindi anche per il nostro territorio. Quindi avremo le farine macinate a pietra, come si faceva una volta, quindi con le varie essenze che non si perdono, quindi macinate a pietra, a freddo. E poi avremo l'olio di Valeria, che è un olio eccellente, sempre prodotto in questo territorio. E poi avremo sia il vino sempre prodotto in questo territorio che, se non ricordo male, il miele, sempre miele prodotto nel territorio sampiaggese. Quindi diciamo dei prodotti d'eccellenza che ora, magari più tardi, cercheremo di gustarli. E a San Biagio Platani questo momento particolare viene anche supportato dal Gall, che ha creato proprio una rete di imprese a tale scopo. Pierfilippo Spoto. Grazie. Sì, nei festeggiamenti di questa versione estiva degli archi si innesta anche la festa del pane. La festa del pane è un evento che si innesta a una misura del Gall che è la 16-4, che ha posto in essere una rete di imprenditori. Nello specifico qui la rete di imprenditori si concretizza con tre aziende sampiaggese, che addirittura creano una filiera. Quindi abbiamo i grani antichi dell'azienda Terra e Vita, la trasformazione dei grani antichi, quindi il panificio Circo, Circo di Franco e l'olio, l'olio di Valeria. Quindi diciamo che nel loro piccolo, in questo borgo, si è riuscito addirittura a fare un miracolo di una rete di impresa che è proprio San Biagese. Qui stasera troveremo gli stand dedicati, quindi con delle degustazioni, quindi pane, olio e tutto quello che vedrete stasera qui a San Biagese. Platano sul corso principale, ma la rete di impresa continua che stasettimana sino al 12 con altri eventi, quindi ancora altre degustazioni. E chiuderemo con un incontro dedicato all'olio. Ci sarà anche una premiazione, non vuole essere una gara, perché ci vorrebbero dei panel ad hoc per questo, ma vorrebbe essere un primo passo per cominciare a parlare di una strada dell'olio. Per quale motivo? Perché in questo territorio, negli ultimi anni, il Covid per questo è diventato un acceleratore, tanti giovani si sono messi a imbottigliare olio e olio anche di alta qualità. Quindi con un'attenzione particolare alla qualità più che alla quantità, è oggi questa rete che certifica le eccellenze, certifica il fatto che anche le piccole aziende oggi possono dire la loro. Il vostro è un prodotto comunque apprezzato anche fuori da questo territorio, promosso all'estero. Diciamo che la rete d'imprese vuole anche promuovere questo tipo di eccellenza. Soprattutto all'estero, perché oggi quasi tutte le nostre famiglie producono olio, quindi chi ha cominciato a produrre ad un certo livello in termini qualitativi, trova sfogo all'estero, dove i nostri prodotti sono particolarmente apprezzati. Per esempio l'olio di Valeria è già da diversi anni in Germania, perché intanto Valeria è nata in Germania, quindi anche la lingua l'ha favorita, ma il palato degli stranieri ha incontrato l'eccellenza siciliana. Oggi probabilmente dovremmo un po' avere più consapevolezza che tutto quello che si produce su questa terra è già di suo un'eccellenza, in passato perché dicevamo che nasce sotto il sole, ma la cosa più importante oggi è che i giovani agricoltori hanno imparato a produrre, quindi con un'attenzione particolare verso la qualità più che alla quantità. Alle nostre spalle una riproduzione del Tempio dei Dioscuri, tra l'altro riportante in una delle colonne, simbolo di Agrigento, capitale della cultura 2025. Intanto la creazione è proprio di una delle aziende della filiera, quindi il panificio, il forno. Il Tempio dei Dioscuri perché? Perché intanto ci sentiamo parte integrante di questo territorio agrigentino, parte integrante di questo progetto Agrigento, capitale della cultura 2025. L'intero territorio ha prestato il patrocinio per questo evento, quindi anche questo vorrebbe essere un evento che va in quella direzione. Agrigento, capitale della cultura, non sarà solo agrigento, sarà un intero territorio che vuole mettersi in mostra e guai se si facesse lo sbaglio di porre l'accento quasi esclusivamente alla città. Assessore, ci sono delle installazioni particolarmente curate, anche innovative, che fanno parte comunque di un progetto complessivo, di un lavoro particolare che avete svolto. Ecco, ce lo illustri. Sì, queste installazioni, queste bellissime installazioni si inseriscono all'interno del progetto comunale e rigenerazioni archi di piano 2030. È il progetto che il Comune di San Biagio Platani ha presentato nell'ambito dell'avviso pubblico a valere sul PNRR, la misura 2 e l'investimento 2.1, ossia l'attrattività dei borghi storici. Il tema catalizzatore di tutto il nostro progetto sono gli archi di Pasqua. È l'unico elemento identificativo del nostro piccolo borgo. Abbiamo voluto riproporre gli archi, infatti le installazioni hanno almeno un elemento tipico degli archi di Pasqua, ma sotto un'ottica innovativa. Infatti, vedendo tutte le installazioni potrete notare sì l'elemento tipico, ma l'elemento della novità, perché queste installazioni sono state realizzate dai giovani, grazie ad un coinvolgimento sano e diretto di circa 150 giovani. E mi fa piacere anche dire donne. Ci sono addirittura, c'è un'associazione composta interamente da donne. È stato possibile avere queste bellissime installazioni nel nostro comune, che saranno esposte da oggi, quindi 10 agosto, sino al 30 agosto, lungo il Corso Umberto I. Queste installazioni seguono il percorso di un messaggio che si vuole lanciare? In realtà seguono diversi messaggi. Si va dalla socializzazione, all'accettare la diversità, alla procreazione, alla rinascita del nostro territorio. Quindi diversi temi in realtà, i ragazzi hanno voluto, diversi temi e diversi messaggi, i ragazzi hanno voluto proprio mandare con queste bellissime installazioni. L'azienda esiste dal 1987, che precedentemente l'aveva mio suogero, poi è venuto a mancare e io e la mia famiglia abbiamo deciso di continuare l'attività. Prima era solo come fanno tutti in Sicilia, mandavamo l'olio nelle latte semplicemente, noi invece volevamo fare un bel packaging per un buon olio, almeno portiamo la nostra bella Sicilia anche nelle belle confezioni. Facciamo parte della rete, che è il sapore di pane, il sapore di olio. E niente, che vi racconto, è un olio Tre Cultivar, San Benedetto, Nocellara del Belice e Biancolilla. E' un olio che viene apprezzato oltre che qui, anche fuori? Sì, tantissimo. Lo mantiamo in Belgio, in Veneto, in Germania, in Inghilterra. Sì, viene molto apprezzato perché veramente la nostra terra ci offre dei frutti che sono gustosissimi e buoni ed è bello dare un bel packaging, penso, alle cose. Ora quest'anno abbiamo inserito anche le nuove, con un ceramista di San Biagio, le nuove confezioni e per dare un bello tocco di classe, penso, che sono delle teste di more, tutte dipinte a mano. Voi producete una serie di farine particolari, ci parli un poco di questa vostra produzione? Ok, sono delle farine di grano antico, infatti come potete vedere abbiamo diversi tipi, farina russello, diceici, cinque grani, senatori cappelli, che è la più particolare, maggiorca e perciasacchi. La particolarità è che sono prodotte dall'azienda Terra e Vita, le produciamo da quattro generazioni diverse, tanto che in quest'ultimo periodo io, mio fratello e i miei cugini siamo stati proprio coinvolti, soprattutto dai nostri genitori, proprio perché ci teniamo a far qualcosa che rimanga in casa, qualcosa di genuino. Allora, se proprio devo dire, la mia preferita è la farina maggiorca, è una farina che è molto delicata ed è utilizzata soprattutto per dolci. Perché è la mia preferita? Perché sono legata attraverso questa farina, attraverso vari ricordi. Ricordo appunto che anche mia nonna fin da piccola la utilizzava per fare delle torte, che tuttora mangiamo, la domenica, puntualmente a luna, quindi è appunto una farina a cui sono particolarmente legata. Ricordo che da piccoli ci facevano tutti insieme insaccare la farina, oppure andare appunto a raccogliere le spighe, fare dei mazzetti, qualcosa di caseccio, se così posso dire, però che porta ad avere dei ricordi, dei ricordi che ovviamente ci porteremo per sempre di sicuro ed ecco perché cerchiamo io, mio cugino e mio fratello di impegnarci il più possibile in questa azienda. E infatti là c'è proprio mio fratello, là c'è il mio cugino e quindi cerchiamo appunto di coinvolgere il più gente possibile perché sappiamo quanto potenziale possono avere appunto i nostri grani. È una caratteristica di San Biagio Platani, è un pane buonissimo, lo abbiamo degustato e io chiedevo è un pane speciale o voi utilizzate sempre questo tipo di pane? Oltre a questo pane facciamo altri prodotti, però questo è proprio il tipico pane che è la cuggiura, la chiamiamo, che ha questa forma così particolare, che è una forma che è molto antica, infatti se voi sapete che è la festa degli archi, abbiamo gli archi centrali che sono posizionati qua davanti alla chiesa e sono ripieni e tutta la base è fatta di cuggiure. Che è il tipico pane che facciamo per la festa di Pasqua, soprattutto in questa occasione oppure quando c'è un'occasione tipo questa. E comunque lei è un'artista del pane? Così sì, mi sento dirlo, poi tra l'altro adesso sono riduce di una, abbiamo fatto, non so se avete notato là sotto, il tempio dei due oscore, quindi abbiamo lavorato diciamo 20 giorni proprio, e mi sento di dire veramente e me lo prendo la parola dell'artista. Oltre al pane vedo altri prodotti? Sì, abbiamo i prodotti tipici nostri che usiamo, tipo le mandorle nostre che coltiviamo, pure altri prodotti diciamo anche questa filiera alimentare, usiamo pure la farina di terra e vita, e tipo in questo impasto, per questo è buonissimo perché c'è l'olio anche di valeria, lo mettiamo anche nell'impasto che lo rende più tenero, più buono da mangiare.